Al Parco Natura Viva di Bussolengo sul lago di Garda gli scimpanzè scoprono la neve. Uno spettacolo unico ripreso dai ricercatori e da chi si prende cura degli animali della struttura. Un'isola innevata, sette scimpanzè e una placida mattinata di sole dopo i grossi fiocchi del giorno prima. E questo è uno scenario di gennaio che si è trovato di fronte allo staff del parco di Bussolengo quando è stato ben contento di lasciare uscire Tommy e gli altri a scoprire la neve. E come sempre gli scimpanzè hanno riservato uno spettacolo unico. Un po' ce lo aspettavamo perché non è la prima volta che accade, spiega Caterina Spiezio, responsabile del settore ricerca e conservazione del parco, ma vedere uno scimpanzè che mangia la neve è sempre sorprendente. Non toccarla, lanciarla o pestarla, ma mangiarla, peraltro in una tale atmosfera di relax forse favorita dal sole e dal silenzio dell'assenza dei visitatori, che dalle immagini sembra che gli animali si muovono addirittura al rallentatore. Un'azione particolare è quella di mangiare la neve che sono i bambini ad aiutarci a decifrare. La scienza quando vuole comprendere un comportamento poco descritto in una specie fa ricorso a ciò che conosce di altre specie affini, così si cerca di investigare il percorso dell'evoluzione e in questo caso sappiamo che mangiare la neve è una cosa che piace molto anche ai bimbi. Sembra essere un comportamento esplorativo invogliato dal fatto che la neve è molto attraente, soffice, bianco luminosa e rinfrescante. Tutti gli scimpanzè l'hanno mangiata, anche la scimpanzè più vecchia, semi, ultra quarantenne, ognuno trovandosi un posto confortevole in cui godere della pace di quegli attimi da solo o accanto al proprio compagno.